Salve a tutti ragazzi, vi mando di questo nuovo video. Io sono HobbsiaMaker e oggi siamo tornati su The Island of Junara in un episodio. Nello scorso episodio siamo morti nell'isola del demonio, del castello e oggi cercheremo di non morire andando in quell'isola lassù. Sì, perché vuoi andare lassù perché sembra interessante come isola. Se cado forse è un po' un problema però. Certo, cerchiamo di non cadere. Allora, qui si può impiantare tutti gli alberi come tutto. Ma non è possibile perché cadono così tanti alberi? Non è possibile perché cadono così tanti alberi? Non è possibile. Qua prendiamo altra legna, dovrei avere una cetta pronta. Ecco qua. Prendiamo altra legna, subitissimo. E dovrei avere abbastanza materiali per arrivare o la terra, o la legna. Dovrei avere abbastanza roba. Ok, direi di avviarci subito ragazzi. Direi di avviarci verso l'isola della morte. Ci metterò veramente prontissimo. però intanto possiamo già vedere. Aspetta. Allora, io non ho la Optifane in questo momento. ho detto, ma quella è diamante? Vabbè, allora. Vediamo un po' di isole interessanti. Allora, vorrei visitare quella là, quella del ghiaccio. Mi interessa la mia. Eppure queste qua piccoline, quella con la vero gigante. Voi lo sapete che questa qua mi interessa parecchio e quindi ci stiamo andando ora. Allora, che isola abbiamo che mi interessa? Intanto che salvo le vedo. Allora, questa qua molto strana. tutta sospetta nel vuoto. Quella lì, con tutti gli alberi. Questa là, questa qua non è male. E ce ne sono di belli, di belli. Ce ne sono molti interessanti. Quella è il nether, quella là, quel deserto. E vabbè, le visiteremo tutte piano piano. Allora, là c'è l'altro diamante. Che cos'è con la roba? Bene, voglio andare anche là. Poi è la sfera. Ce ne sono bellissime, tantissime, bellissime. Levissime, purissime. Basta, che la smetto. Ok. Allora, siamo quasi arrivati. Allora. Siamo quasi arrivati? Sì, non manca tantissimo. Anche un altro tipo 30 blocchi, forse anche di meno, e si va. Poi si va in orizzontale. E vabbè, ora diremmi ci dovremo buttare in acqua dopo, mannaggia a me. Ci dovremo buttare in acqua. Quindi cerchiamo di prendere tutto quello che c'è in questa isola, perché non credo ci risaliremo, visto che non abbiamo il secchio d'acqua. In senso, ormai dovrò fare una cosa strana per i sedici. Che cosa è? Che cosa è quella? Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Vabbè. Sono interessanti, come potete vedere alcune isole. Vediamo un pochino qua che abbiamo. Ehm... Uuuu... Artifact Game Maker, vediamo. Ma cosa?! Ok. Ok, allora... Questa è brutta. Questa scelta. Fa 12 due anni. Per adesso, lascia più forte che abbiamo. Cioè, con l'arma più forte che abbiamo. Ma... C! Efficienza 10! Vediamo la descrizione. Gli alberi orneranno. L'ascetta del power. L'ascetta del potere. Ehm... Ragazzi, mi sa che abbiamo scorte infinite di legno per sempre. Scorte infinite di legno per sempre. Ehm... Vediamo tutto questo legno. Ma chi ci ferma, no? Non è un legno in filo per sempre. Ehm... Guarda quanto. E' proprio dire anche sottoterra. E' proprio dire anche sottoterra. Non è arrivato un'antaggio per esempio. Ma intanto vanno tutto. Guarda, guarda. Dio, tutto sto legno. Ci facciamo ponti infiniti dell'eternità. Ci assicurano ponti infiniti di libertà. Sono tantissimo. Amore. Dai direi subitissimo. Devi sapere mamma mia. Ma poi ci sono più alberi. Sono tantissimi gli alberi che ci sono. Sono tantissimi gli alberi che ci sono. Amore. Le cesti cartelli che non fanno mai male. Ehm... Spero qua c'è una caverna. Ehm... A me non piacciono le caverne. Ah... Mi schermo quest'albero. Perché le caverne sono piene di mostri. Piene di mostri. Puglulanti. Puglulanti di mostri. Molto brutti. Cattivi. Che... Non vorrei mai incontrare. Ah... Si sta anche facendo notte. Questa cosa non va per te bene. Quindi o scendiamo subito. Ehm... Dovevo prendere il tutto il legno possibile. Ehm... E quindi tu stai tutto da quello che c'era qui su quest'isola. Un po' di legno. Vabbè legno ancora. Non voglio dire niente. Comunque tanta roba però... Piensevo qualcosa di più. Cioè... Un po' deluso. Eh si però è manca tantissimo. Cioè... Sto legno. Ehm... Io voglio fare un po' qualcosa di più eh. Un po' deluso. Voglio dire la verità. Però... E' meglio accontentare. Non mi accontentare. E' meglio accontentare. Ma una volta in pace mi posso... No dai. Cioè vuoi dire che dobbiamo scendere? No. No dai. Non lo dobbiamo già scendere? Eh si perché no. Non lo scendere. Poi arrivano a scendere. È un po' un problema. Eccolo. L'ho chiamato. Andiamoci. Guarda. Andiamo. Andiamo via. Andiamo via. Aspettate. Mi dispiace lasciare... Mi dispiace lasciare... No. ...id pues funziona... wasted with me. Eccolo. Somerta. R greed. Per Zo. Amatого. Ho bisogna che vorrei. Facarette.